Presentata questa mattina ad Imperia l'operazione di riqualificazione dell'ex caserma Crespi, destinata a ospitare alcuni corpi dello Stato, tra cui la sede del comando dei carabinieri, dell'Agenzia delle Entrate e altri uffici, alla presenza del sottosegretario alla difesa Giorgio Moulet, che ci ha parlato di questa importante opera. Si concretizzano qui le sei missioni del PNRR, ma vengono coniugate con un effetto di anticipo e con una reale visione amministrativa, frutto del sindaco di Imperia e della sua amministrazione, coniugata con un'amministrazione virtuosa, che è quella dell'Agenzia del Demanio, che crea un polo amministrativo nel quale, dalla transizione ecologica a quella energetica, all'efficienza, si ritrovano tutti insieme nell'ex caserma Crespi, che non è soltanto la nuova caserma dei carabinieri, ma è l'unione di più esigenze amministrative, come l'Agenzia delle Entrate, le commissioni tributarie e tutto il resto che gravita intorno a un polo che nel totale ospiterà più di 300 impiegati, ma che servirà decine di migliaia di persone. Le considerazioni in merito del sindaco, Claudio Scaiola. Beh, era un sito abbandonato da molti anni. Nel centro della città c'era la necessità di dare spazi agli uffici dello Stato, in particolare ai carabinieri, ma anche all'ufficio delle Entrate, all'ufficio della motorizzazione, all'ufficio degli archivi, che avevano situazioni di assoluto disagio. Coniugando quindi un'area di smessa, situazioni di disagio, e nel contempo costi che nel totale erano intorno agli 800 mila euro di affitti, l'Agenzia delle Entrate, grazie alla capacità dell'ingegner Zito e dei suoi collaboratori, e con l'aiuto fondamentale che abbiamo avuto dal Governo, attraverso anche il sottosegretario Mulè, ci ha permesso di avere circa 30 milioni di euro. La cosa importante che ha illustrato l'ingegner Zito è che i soldi ci sono, i progetti sono quasi pronti e il cronoprogramma ci porta a dire che nel 2026 saranno terminati i lavori e saranno efficaci tutti gli uffici là collocati. E quelle di Giovanni Zito, direttore generale dell'Agenzia del Demanio. La nuova costruzione sarà fin dall'inizio mirata dalla progettazione, alla gara, all'esecuzione, a rispettare quelli che sono gli attuali protocolli green. L'obiettivo è quindi quello di avere un edificio che non solo sia pienamente a norma, rispettoso delle esigenze della pubblica amministrazione, ma anche sostenibile, quindi molto attento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all'esparmio energetico, all'efficientamento energetico e soprattutto anche alla vulnerabilità sismica. Ci sono altri esempi di strutture di questo tipo con tutti gli uffici accolpati? Di questa dimensione no, perché Caserma Crespi nel 2026 sarà appunto quello che si potrà definire un po' l'amministrativo, quindi avremo in un unico compendio una concentrazione di circa otto pubbliche amministrazioni. Abbiamo degli esempi analoghi in Italia, in Liguria no. Abbiamo in regione Liguria altri finanziamenti importanti, su Genova, Sanremo, però non di questa portata come concentramento di pubblica amministrazione. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.